Buongiorno a tutti, negli ultimi giorni, negli ultimi video abbiamo tratteggiato tra l'altro le rocambolesche memorie del generale Roatta a proposito della propria seconda destituzione da capo di stato maggiore dell'esercito, una destituzione che come abbiamo detto sarà definitiva, sarà un po' la fine militare di Roatta che da lì in poi seguirà un lungo tortuoso iter giudiziario tra carcerazione, latitanza e poi tutto quello che comporterà negli anni successivi alla sua fuga nel 1945. Ma mi è sembrato interessante e per completezza poter in qualche modo dare una versione diversa rispetto a quella che offre l'interessato che come abbiamo visto è un po' distratto nel senso che ha tanti grilli per la testa, ci parla di argomenti più vari possibili e sembra non sempre essere del tutto concentrato sulle questioni prettamente militari, strategiche del ruolo che l'Italia, che il re cosiddetto Regno del Sud sta svolgendo o che vorrebbe svolgere all'interno della economia bellica, all'interno della cobelligeranza, questo ovviamente è ovvio. E mi è sembrato interessante andare a pescare quegli stessi giorni, quindi vedere quale punto di vista possa essere alternativo a quello dello stesso Roatta affrontando gli stessi temi, ossia la richiesta da parte degli alleati di rimuovere Roatta per una serie di motivi, tra cui quello delle recriminazioni jugoslave e chi meglio del generale Puntoni prima aiutante di campo del re per illuminarci in questo aspetto. Di conseguenza ho ripreso il volume Parla Vittorio Magna III di Paolo Puntoni in questa edizione del Mulino che ci offre uno spaccato interessante. Allora, io ho pensato, anche per rendere un po' più articolato il video, sennò durava magari troppo poco e lasciavo anche spazi dei buchi, quindi ho deciso di leggervi per intero, anche se poi all'interno delle singole giornate non vi è ovviamente l'esclusività dell'argomento Roatta, non è che intorno a Roatta gravitasse la politica del Regno del Sud, meno che mai. Però è interessante leggere come, anche per capire il peso specifico dell'argomento Roatta nelle preoccupazioni del primo aiutante di campo del re e quindi del sovrano, dall'8 novembre, leggerei, dall'8 novembre fino al 20, diciamo 12 giorni in cui si va a inserire non solo l'argomento Roatta ma anche l'argomento Ambrosio che non è da meno, visto appunto che hanno un minimo comune denominatore nelle recriminazioni nazionali e internazionali. E soprattutto in relazione a un argomento molto interessante, ossia, di che ne abbiamo parlato ma mi sembra il caso di ribadirlo perché è fondamentale, del rimpatrio dei tre generali della prima armata catturati in Tunisia nella primavera scorsa che dopo un periodo di prigionia di guerra sono stati liberati dagli inglesi e che sbarcano in Italia e questi tre, ossia Messe, Berardi e Orlando, andranno a ricoprire i massimi incarichi militari del cosiddetto Regno del Sud, ossia Capo di Stato Maggiore Generale, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e Sottosegretario alla Guerra. Quindi non è secondario il fatto che vi sia una sorta di cambio della guardia, chiamiamolo così, utilizzando un termine del precedente regime, utilizzando proprio tre elementi che nel bene o nel male erano assolutamente distanti dalla politica militare italiana dal luglio, dal 25 luglio fino arrivare all'8 settembre e anche nelle settimane immediatamente successivi. Quindi tre personaggi che nel bene o nel male erano stati catturati in battaglia precedentemente, che erano stati in cattività per tanti mesi e quindi in qualche modo erano sicuramente estranei a qualsiasi tipo di responsabilità di ogni tipo accaduta tra appunto luglio, l'agosto e il settembre del 1943. Ma a questo punto avrei parlato di cinque minuti di questa sorta di introduzione per andare a capire per quale motivo vi leggo queste date e perché in queste date vi sono elementi di grande importanza per capire anche questo passaggio che non è scontato, perché poi alla fine non è solo da parte del Regno del Sud di toglia di mezzo Ambrosio e Roatta, ma inserire al loro posto degli elementi dei personaggi che possono essere moralmente inattaccabili. Sappiamo che poi Orlando era attaccabile in qualche altro modo perché comunque sempre Jugoslavia era stato, però diciamo in quel momento non era attaccabile, considero che poi avrà delle responsabilità anche per la fuga di Roatta, ma questo non ci interessa in questo momento specifico, ma degli elementi che potessero essere in qualche modo funzionali, graditi agli alleati per un discorso di lungo periodo all'interno di quella che sarebbe stata la progressiva e crescente attività bellica delle ricostituite forze armate italiane. E questo non va mai dimenticato perché se a partire dal mese di dicembre, nonostante vi fossero già stati dei passaggi importanti, che abbiamo già visto anche nel diario di Roatta, dei passaggi importanti per la creazione del primo raggruppamento motorizzato, per dopo la costituzione del Cile e poi dopo per i gruppi di combattimento, bene, questo lungo percorso sarà merito anche e soprattutto di questi tre personaggi, ossia appunto di Messe, Berardi e Orlando. 8 novembre, quindi 8 novembre 1943, diario di Puntoni. La missione alleata ha chiesto per iscritto la testa di Roatta che si trova ricoverata all'ospedale di Marina per un incidente automobilistico. Per tutti coloro che stanno vedendo questo video e non sanno che tipo di attività, vi suggerisco di andarvi a vedere gli ultimi, almeno gli ultimi due video su Roatta che ci spiegano perché si è fatto male, eccetera, eccetera, eccetera. La lettera, quindi questa lettera degli alleati in cui si chiede la testa di Roatta, fa seguito a una richiesta verbale di alcuni giorni fa. Non c'è nulla da fare, bisogna cedere. Suomestà mi incarica di parlare con Badoglio per decidere chi debba succedere a Roatta. Si pensa a Francesco Rossi. Ambrosio per il momento potrebbe restare al suo posto. Per Messe si potrebbe creare la carica di Ispettore Generale, quindi si riflette sulla possibile creazione di questa carica per dare un posto a Messe. Sapremo che in realtà non sarà così perché Messe non si accontenta di questo contentino e quindi poi alla fine questo contentino viene dato a Ambrosio che viene scaricato da ruolo di Capo di Stato Maggiore Generale per darlo a Messe. Sorice resterebbe Ministro della Guerra a Roma dove esplica attività clandestina con l'incarico di preparare la situazione per l'arrivo delle truppe di liberazione. Peccato che il problema nasce in Puglia, visto che siamo nel cosiddetto governo dei sottosegretari e quindi va trovato eventualmente un nuovo sottosegretario. 9 novembre 1943. Iere, insieme con i generali Orlando e Berardi, è giunto a Brindisi il maresciallo Messe, liberato dalla prigionia dagli alleati. L'arrivo di queste tre personalità militari mette decisamente sul tappeto la questione del loro impiego in relazione al richiesto allontanamento d'Iroatta e alla traballante posizione di Ambrosio contro il quale a breve scadenza gli angloamericani sfereranno un'altra offensiva. Quindi vi è una quasi contestuale sequenza tra l'incriminazione a Roatta e Ambrosio e il rimpadrio di questi tre. Quindi sembra quasi una coincidenza che in qualche modo questi due devono essere liquidati e già abbiamo mandati apposta dagli alleati per trovare già un sostituto già preconfezionato che possa garantire una certa credibilità. Sicuramente erano tre personaggi in quel momento autorevoli, quindi non si andava a fare un favore agli alleati, era un favore che si faceva a se stessi il fatto di indicare questi tre personaggi che come dicevo non erano imputabili di nulla da luglio al settembre perché stavano prigionieri di guerra. Sua maestà riceve messe e i generali Orlando e Berardi. Alle 18 è introdotto nello studio del sovrano il generale McFarlane, il quale lasciando temporaneamente il suo posto di capo della missione alleata viene a compiere la visita di congedo. Lo sostituirà il generale americano Joyce. Alla sera i due generali alleati sono invitati a pranzo da Badoglio, il quale non sa più cosa fare per mostrarsi con loro devoto e premuroso. 10 novembre 1943. Alle 18.30 il re riceve Badoglio per trattare la questione messe e per concretare la formazione di un governo provvisorio con sottosegretari in attesa di poter formare un gabinetto regolare a Roma. 11 novembre 1943. È il genetliaco del re. C'è molta differenza tra questa festa e le altre che si celebravano a San Rossore nell'intimità della famiglia reale. Alla mensa del governo Acquarone ha fatto portare lo spumante ma nessuno, nemmeno il capo del governo, ha sentito il dovere di brindare alla salute di sua maestà. L'ho fatto io allora guardando in faccia tutti ma soprattutto Badoglio che sembrava seccato e imbarazzato. Alle 11.00 il re riceve per gli auguri su Altezza Reale il Duca d'Aosta e i capi della missione alleata di controllo. 13 novembre. Il maresciallo Badoglio riunisce i giornalisti alleati e comunica le decisioni prese per il completamento del governo. La stampa pubblica i nomi dei componenti del nuovo gabinetto. Si tratta di sottosegretari poiché ha prevalso il concetto di considerare ancora in carica i ministri assenti. 16 novembre 1943. Il sovrano firma i decreti di nomina dei nuovi sottosegretari. Fra i nomi proposti da Pippo Naldi ne sono stati scelti quattro. Piccardi si è dimesso da ministro. 17 novembre. Ho un lungo colloquio con Pippo Naldi. Egli insiste sulla necessità di spedire a Londra e a New York persone di fiducia che prendano contatto con Churchill e con Roosevelt. Si lamenta della passività del governo e dice di essere convinto che gli alleati al momento della presa di Roma non permetteranno al governo italiano di insediarvisi subito. Tutto questo, dice Naldi, tornerà a vantaggio di sforza di Piccardi e degli altri fuoriusciti che sono dichiaratamente ostili alla monarchia. Così corriamo il rischio di avere tre governi in Italia. Quello legale di Badoglio, quello fascista di Mussolini e un terzo semigoverno formato dagli uomini politici rimasti nella capitale. Bisogna mandare gente anche a Roma che si metta in contatto con gli elementi di destra per parare un simile grave colpo. Parlo con il re del colloquio con Naldi. 19 novembre 1943. Sua mestà firma i decreti per la nomina di Messe a capo di Stato Maggiore Generale e di Berardi a capo di Stato Maggiore del Reggio Esercito e ne firma un terzo per la nomina di Ambrosio a Ispettore Generale dell'Esercito. Orlando è stato già nominato sottosegretario alla guerra e tutto collima. La situazione militare sul fronte italiano non è troppo brillante. Gli angloamericani segnano il passo e laddove i tedeschi contrattaccano arretrano. L'occupazione di Roma a breve scadenza è un sogno sfumato. 20 novembre. Il sovrano riceve alle 11.30 il maresciallo Messe. La ragione del colloquio è la seguente. Sforza si agita sempre di più per arrivare a staccare Badoglio dal re e insiste nella sua campagna di accuse contro i generali e gli ufficiali in genere che definisce strumenti del fascismo regio. Non è che si può dare tutti i torti. Quindi mi sembra che da questa prospettiva che ci offre uno spaccato diverso in cui si va un po' a reggere le due posizioni in cui tornano questi tre dalla prigionia che diventano sostanzialmente i candidati in pectore degli alleati per dare una strigliata alle istituzioni politico-militari del Regno del Sud e allo stesso tempo si va a creare una ipotesi di frattura, di terremoto politico perché ovviamente il retaggio fascista o fascistoide della componente istituzionale che da Roma è andata a Brindisi, diciamo che gli alleati poi alla fine con i fuoriusciti di cui si fidano un po' di più, forse per certi aspetti, almeno di sforzo sicuramente si fidano delle componenti di sinistra un po' meno, però si inserisce all'interno di appunto un riequilibrio in cui inevitabilmente il re ma anche Badoglio sanno che hanno un mandato a termine, le prospettive sono comunque di un rinnovamento completo visto e considerato che vi sono considerate a ragione delle responsabilità nel precedente regime da parte sia di Vittorio Emanuele che di Badoglio, quindi poi sappiamo come le vicende si evolveranno, sappiamo la svolta di Salerno, sappiamo poi l'arrivo a Roma, ma se ne parlerà ovviamente nell'anno 21, nel 44, in cui appunto vi sarà una serie di accadimenti che appunto sono già in embrione per dare un segno più democratico, un segno più antifascista, sostanzialmente antifascista a quello che andrà poi ad essere il governo, il nuovo governo italiano, quindi questo è un elemento interessante che si inserisce nelle pieghe della querelle Roatta ma che ha la sua sostanziale importanza perché poi alla fine, parliamoci chiaro, sono gli alleati che dettano le regole, che dettano la tempistica, che dettano il modo in cui vi possa essere questo auspicato rinnovamento democratico del Paese, perché se no se si aspetta la iniziativa degli italiani forse c'è qualche problema e questo ve lo dico un po' facendo un esempio pratico, sin dalla sottoscrizione dell'armistizio corto, quindi parliamo del 3 settembre del 1943, si parlava della completa abolizione di qualsiasi discriminazione razziale, sappiamo che il governo Badoglio se ne occuperà solo a partire dal gennaio del 1944, quindi ci metterà 5 mesi, quindi capiamo bene che come anche le stesse imposizioni dell'armistizio saranno ben ponderate, ben scadenzate da parte delle priorità che verranno affrontate dal governo Badoglio, quindi diciamo se non vi è un pungolo da parte degli alleati, diciamo che il governo Badoglio continua un po' a vivacchiare, un po' a campare, un po' così a tirare il camp per l'aria, quindi diciamo che questo è un elemento interessante anche nella dinamica degli avvenimenti appunto che porteranno poi nel giugno del 1944 alla completa defenestrazione anche di Badoglio come capo del governo. Detto questo, come al solito vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!